Musica Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale Eh sì ragazzi, oggi siamo con un altro episodio qui sul mio canale con Ship Graveyard Simulator Dove ci avevamo lasciato lo scorso episodio che avevamo preso un'altra nave E stavamo depredando i materiali per creare nuovi materiali di fusione Per fare altri obiettivi e per più fare commesse e rivenditori nella nostra città Poi ognuno di voi ragazzi, grazie anche per i consigli che mi avete dato Soprattutto nello scorso episodio di Ship Graveyard Simulator Dove avete detto compra una troncatrice Ragazzi adesso andremo a vedere come compare una troncatrice O se no mi sa che dovremmo fare l'upgrade del negozio Cioè del negozio che vende gli attrezzi Quindi secondo me se no non possiamo comprare altre attrezzature Poi in questo episodio l'andremo a vedere Perché dovremmo anche finire a depredare la nave E cominciamo a fondere i materiali Tanto la nave ci costa 120 dollari al giorno Qualche soldo l'abbiamo fatto Quindi per il momento i soldi non sono un problema Quindi dobbiamo vedere un po' anche fare obiettivi per a meno in casa qualche soldo Quindi questa è la teoria di questo episodio oggi Con questo nuovo episodio Ragazzi grazie per il supportaggio che mi state dando Ragazzi sia di like, di pollicioni, di tutto Anche di visualizzazione ragazzi Grazie, 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 veramente Grazie veramente ragazzi Vi volevo dire che Finalmente ragazzi Stamattina mi hanno sistemato la linea Hanno fatto lo scavo a terra Quindi hanno sistemato il giunto Che era da 30 anni che era lì Quindi doveva essere cambiato E diciamo che Oggi faremo dei test per vedere Poi ragazzi se tutto va bene Dalla settimana prossima rinizieranno le live Sia su youtube che sul tubio viola Che troverete tutti i link sotto Gratuitamente Sono tutti sotto gratuiti i link Quindi potete andare a vedere Quindi mi raccomando Memorizzate la scaletta che troverete O sul mio sito in xpazx.it O sul mio discord Sempre sotto ufficiale il link Ragazzi detto questo Ci ho voluto dirvi Perché un sacco di gente mi faceva domande Un sacco di voi Ma pazzo ma le live Perché? Dicevo sempre che avevo il guasto alla linea Ma quindi diciamo che finalmente è stato risolto Ma il test di oggi Vedremo un po' cosa succederà Quindi vi terrò giornato sui social Quindi non mancate anche di seguirmi lì Banda del challenge Ragazzi dopo ho detto questo qua Carichiamo la nostra partitona E vediamo ragazzi Cosa ci serve per Fare l'upgrade al negozio Perché sennò ragazzi Non possiamo comprare L'attrezzo consigliato Da uno di voi Che sarebbe la troncatrice Se ricordo bene Quindi Vediamo un po' Vediamo un po' se possiamo acquistarla E vediamo pure se riusciamo a fondere Quei materiali Soprattutto E quando ce ne vogliono Quindi adesso faremo una lista Di dei materiali Che dovremmo fondere O trovare Quando deprediamo le navi Che prendiamo come Come Cioè le andiamo a noleggiare Per depredare i materiali Ovviamente Purtroppo Non possiamo prendere tutto Perché ci mancano Determinati attrezzi Come avete visto Nei scorsi episodi Quindi Ci mancano Determinati attrezzi Purtroppo ragazzi Abbiamo solo un martello E la sega Quindi quello Passa il convento Quello ci passa Oh ragazzi Ma la nostra azienda È piccola Siamo appena nati Già è troppo Di quello che facciamo No? Quindi pian piano Ci andremo Sicuramente A evolvere Sicuramente Evolvere Insieme anche a voi Quindi Rimanete sintonizzati Insomma Eccoci qua ragazzi Siamo lasciati qua Avevamo anche Un nuovo ordine Però Abbiamo il 33% Quasi completato Alla nave Che avevamo depredato Abbiamo Il bagagliolo Dell'auto Completamente Piena Però abbiamo Il nostro zaino Vuoto Però io vorrei Aggiornare Il negozio Come si faceva Per aggiornare il negozio Perché vedete Ragazzi Non possiamo Noi abbiamo Solo Noi possiamo Solo questi Cioè non possiamo Vedere altro Cioè insomma Abbiamo solo questi attrezzi Quindi Non è che dici Quindi per fare l'upgrade Ci serve Acciaio arrugginito 10 di rame E acciaio non legato Allora il rame ce l'abbiamo Acciaio arrugginito ce l'abbiamo Ma Non abbiamo L'acciaio non legato Quindi Vediamo cosa serve per creare L'acciaio non legato Quindi Andiamo qui alla nostra fornace E vediamo cosa ci serve Per fare l'acciaio non legato Che sarebbe questo Acciaio non legato Ah no Eccolo qua Ce l'abbiamo Ci serve Acciaio arrugginito E rame Oddio ragazzi Forse aspetta Possiamo farlo Perché di rame Di acciaio arrugginito Ce l'abbiamo Aspetta Mi sa che ci abbiamo Già acciaio non legato Se non sbaglio Fammi andare a vedere su qua Ci avevamo già qualcosa Allora Cromo Rame Rame Grottichino Acciaio arrugginito No Non ce l'avevamo Allora Ci serve Acciaio arrugginito Ci serve rame Allora Aspetta ragazzi In che modo dobbiamo farlo Ci serve Acciaio non legato Ci serve Allora Rame Ok Proviamo ragazzi Quindi 5 E 5 Dobbiamo metterla A 1000 Ok Proviamo a fare St'acciaio Uh Che belli Acciaio non legato Ok L'abbiamo fatti tutti Ok Perfetto Allora Però aspetta Quando ne abbiamo la 6 Mi sa che Per fare l'upgrade La Ehm Andiamo un attimo Ehm No L'acciaio abbiamo Allora Ci servono Già Ragazzi Mamma mia Abbiamo fatto l'acciaio Io chiedevo Che chiedeva di più Invece no Allora Ehm Acciaio arrugginito Erra Allora Rame E acciaio arrugginito Vediamo un po' Se abbiamo messo tutto Dobbiamo prendere altri No Ci serve 10 di rame Eh Bella mamma Vediamo se ce l'abbiamo in macchina Siamo sì Se no siamo fottuti Allora Rame Eccolo qua Ce ne abbiamo 10 E di acciaio arrugginito Boh Non mi dico Non c'ho più l'acciaio arrugginito Io Boh Vedete che non abbiamo più l'acciaio arrugginito Cioè Dove che ne abbiamo presi tanti di acciaio arrugginito Ma guarda Ma guarda che Il destino è crudele Cioè Non Non ci credo Signore Ci mancano 6 Cioè Uno di acciaio arrugginito Scusa Favete se lo trovo in giro Visto che in giro Comunque si trovano Dei Dei materiali Questo è il rame No Ehm Ghisa Ma non si trova un acciaio Non arrugginito Eccolo Mamma mia ragazzi Abbiamo tutto Corrente Per poter fare l'upgrade E comprare una nuova attrezzatura Così finiamo di depredare la nave Signori Allora Ehm Vai possiamo farlo Acquista Facciamo questo upgrade Ah Che bello ragazzi Oh A meno abbiamo più Utensili ragazzi Abbiamo più utensili Allora Ehm Bruciatore Martello Smediglietrice angolare Eh non è che ci abbiamo tanto Martello in acciaio Eh questo ci servirà Questo ci servirà Perché Praticamente Per rompere le cose più dure Quindi questo lo Lo potremmo anche acquistare Poi abbiamo una spazzola per l'olio E le fiamme ossidiche Che questo comunque possiamo comunque comprare Ehm Ci costa 400 però Allora facciamo una cosa Il nostro primo upgrade di nuovo Ci compriamo il martello in acciaio Ok Perfetti Martello in acciaio Quindi Dovremmo Tenerlo qua Martello Di livello 2 Eccolo qua ragazzi Con questo possiamo spaccare un po' Un po' di più Insomma Quindi Va bene Va bene Ragazzi upgrade 2 A meno abbiamo più cose Quindi adesso prendiamo la nostra auto Che tanto non ci serve Perché abbiamo poco spazio Però Ehm Allora qua che abbiamo il rame Lo possiamo mettere Dove stava il rame Vabbè mettiamolo qua La ghisa possiamo metterla qua Eh no Che mi fa Mi si appende in giro Ah no Non è la ghisa Ecco la ghisa Tutta ghisa 3 Allora smettiamolo qua Ma ci liberiamo Lo spazio Vabbè La macchina senza che la prendiamo Ragazzi È completamente piena Ehm Questa ci serviamo Tutti per fare i materiali Quindi poi Intanto continuiamo a depredare qui Viscale Mo' siamo comprati Un martello di livello 2 Quindi possiamo rompere Altre cose che non potremmo rompe Purtroppo ragazzi Abbiamo speso già troppi soldi Upgrade A Al negozio Più uno Un nuovo martello Quindi La troncatrice ragazzi Non possiamo comprarla ancora Perché non c'è Non c'è Quindi Però con il martello Di livello 2 Possiamo rompere queste cose Che L'altra volta Non si rompevano Quindi Vai così Quindi andiamo con Quindi acciaio Accedendo l'acciaio Vai livello 2 Spacchiamo tutto Ecco questo ragazzi Possiamo fare Molta differenza Ehm Pure questo Possiamo rompere Vedi Qua ci dà pure la benzina Ci dà Interessante Ok Ci dà acciaio Acciaio Benzina Ehm Vai spacchiamo pure questo Alluminio Ci dà qua Ci danno tutte Ci dà tutte cose Belle Belle che non Alluminio Eppure molto Questa si può rompere No Questo no Però possiamo continuare A rompere questi Intanto saliamo anche di livello Quella è la cosa più importante Perché Più andiamo di livello Più possiamo sbloccare Nuove abilità Nuove cose Quindi Ehm Ok Vai Questo possiamo rompere Va Ci dà pure benzina Spacchiamo tutto Ehm Il martello d'acciaio Signori Martello d'acciaio Spacchiamo tutto La benzina Poi vediamo Cosa ci possiamo fare Allora Mi sa che era pure di qua Rompere Che mancava Che questo non potrebbe Sì questo Vai Qui c'è pure il piombo Il piombo buono Ce l'abbiamo già Per parecchio Poi vediamo ragazzi Possiamo fondere determinati Possiamo fare delle leghe particolari Visto che adesso abbiamo anche tanti materiali particolari Ehm Dentro anche la macchina Ma soprattutto Allora questo perché non abbiamo rotto Ah no apri Uh che ci sta Ghisa ghisa Edda fammola prendere Ehm Vabbè spaccalo Fammi la spaccala Ok spacciamo tutte queste casse Allora questo dobbiamo sbloccare Altro pochettino No Così Così Ok che ci sta Scherge l'agenda C'ha inossidabile E alcolici Perfetto raga E questa è tutta roba che ci serve Sfandiamo pure qua Questi possono rompe No ci serve la Uh ci serve la mola Qua però ragazzi possiamo romperlo tutto Que Qua ci serve la sega Possiamo romperlo Vai Andiamo a rompere questo Ehm Il rame ci serve ragazzi Il rame E' quello che dove possiamo fondere più materiali con il rame Quindi Poi la benzina vediamo Quando sta ce l'andiamo a vendere Mare che va Tanto lo spazio abbiamo quasi finito Quindi non è che Vediamo un po' questo si può rompere Vai Abbiamo pure sta bomba Che ci dà altro piombo Ok Questo si può rompere Ah qua si può rompere Vai spacchiamo tutto Ok Questa è un'altra cassa Vai spacchiamo pure qua Eh ragazzi C'ha da bella roba Ma andiamo a metterlo un po' nel magazzino Della Dei cosi Perché penso che già Mo Ehm Divendiamo pesanti Allora Sblocchiamo pure qua Un altro po' Un altro pochettino Appena 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 Alcolici Alluminio E alcolici Eh Non la possiamo più prendere più Eh Ragazzi Ragazzi siamo pieni Allora Facciamo una cosa Usciamo da qua Comunque questa nave Ragazzi Ha molto eh Esco Comunque Scusate la parte sbagliata Vabbè Ragazzi comunque Questa nave Dà molto C'ha molto materiali Vedi anche chimici Benzina Eh Tanta roba ragazzi Ovviamente poi ragazzi Possiamo anche depredare qui Qui ci sono anche le altre carcasse di navi Che come potete vedere Prima abbiamo trovato in giro Un po' Tanta roba che ci serviva Anche per fare l'upgrade Della Della cosa Però Io mo voglio vedere Perché Eh Dobbiamo anche cominciare Ad aggiornare Ma qua che cosa è? Io non mi ricordo che cosa era quella Ah la baracca Eh Possibile di assumere i dipendenti Questa cosa dovremmo farla Quindi richiede 8 di rame 6 di ghisa E 4 di carosene Quindi la benzina ci serve Quindi Ma benzina Io non andrei a vendere Quindi Quanta benzina abbiamo? Quindi facciamo così Eh Allora Alluminio Ci avevamo già Allo scherzo di argento Si possono mettere qua Due Poi Alcolici Mo ce l'andiamo a vendere Il piombo Qua Eh Ghisa Ce l'avevamo qua Acciaio Già ce l'avevamo un po' di acciaio Si però Mettiamo un po' qua Acciaio Piombo Lo possiamo rimettere qua Questo è tutto acciaio Acciaio Eh Acciaio inossidabile Ma ci stava un acciaio inossidabile A qualche parte però Ah no Forse dentro la macchina Vabbè Vediamo un attimo di venderci Salve Mi voglio vendere un'acciaio Mi voglio vendere Gli alcolici Quando mi fai 150 Mi voglio Quanto mi metti Di acciaio inossidabile No però Non me lo voglio vendere Cioè Ci può sempre servire Un po' di acciaio Me lo voglio vendere Quante dai A meno ci facciamo qualche soldo E niente ragazzi Torniamo alla nave E Comunque gli alcolici Paga tanto Paga Mo il carosene Mo non so se È la benzina Il carosene Mo questa cosa È da vedere però Però non me lo segnava Come se ce l'avevo Quindi non lo so Però vabbè Sono dettagli questi Però vabbè Volevo un attimo Vedere se Perché Ragazzi Noi Non ci serve Acquistare un dipendente Che comunque Un dipendente Possiamo metterli lì Che rompe da solo E va Allora Noi stavamo di qua Stavamo continuando A rompere qua A raccogliere Allora Questo è il Alluminio Ok Allora Mettiamoci la La sega Vai Eh raga Questo è il rame Il rame serve Il rame ci serve Ok Mettiamoci Qua Eh guardate Quanto rame Eh raga Il rame Ci serve Ci serve Eh rame ci serve Però si sta Detirando la lama Della sega Dobbiamo pure Ricomprarci una lama nuova Oh per il momento Il lavoro suo lo fa Però Ci mettiamo più tempo A tagliare Però Va bene Va bene Tanto mi sa che Non dobbiamo tagliare Altro con la lama Solo questi due Poi abbiamo Poi abbiamo anche un nuovo ordine Da poter Disponibile Ma che dici Ce la facciamo ragazzi A tagliare Quest'altro Lo vedo un po' difficile Perché la lama Se l'ho Corrata troppo Mi sa che non ce la facciamo Mi sa che mo' si rompe la lama Ma vedete che non ce la facciamo A tagliare questo qua Guarda Stai a vedere Questa sfiga che portiamo Oppure ci mettiamo talmente tanto Eh raga Dobbiamo ricomparla la lama Menta consumata Ci vogliono milioni di anni Ok Allora Questo ci serve La tron Ah eh Questo non li può tagliare Raga Questo ci serve La lama nuova Dobbiamo comprare Vabbè Facciamo una cosa Per il momento Tanto un po' Il rame ce l'abbiamo Ehm Continuiamo a Spaccare cose Che non potevamo Spaccare col martello Ehm A parte che dobbiamo Pure scendere sotto Qua Qua non manco ci scendiamo sotto Quindi Allora Mi sa Vai Queste cose qua Queste cose che non potevamo Rompere con il martello normale Benzina Acciaio Acciaio Vai Acciaio arugginito Ghi serrame Ci dà questo Acciaio arugginito Madonna Eh ma siamo pieni Un'altra volta Che cos'è Vabbè Vabbè spacchiamo Poi Ora veniamo a raccogliere Ragazzi siamo pieni Dobbiamo fare più spazio All'inventario Dobbiamo fare qualcosa Con l'inventario Perché porca miseria Madonna Ma perché quando robò Quello laggo Non capisco Allora intanto Spacchiamo tutto Poi ci Poi ci andiamo a prendere I materiali qua Nuovo livello Abbiamo un nuovo livello Allora Ragazzi Niente Dobbiamo fare una cosa Allora Uscire da qua E Andiamo a svuotare Io mo Scusa facciamo una cosa Abilità Io voglio Io voglio sviluppare un nuovo Luce sprint Danni Luce da martello Ma non si può mettere una cosa Che Più spazio Ecco Più un slot Attrezzatura aggiuntivo Però dobbiamo sviluppare questi Abbiamo quattro punti abilità Facciamo una cosa Facciamo questo E io voglio fare questo Voglio fare Danni E questo ragazzi A meno abbiamo più slot E un altro punto Slot all'auto La cosa che ci serve di più A meno abbiamo quattro E raga per forza No qua Se continuiamo così Non possiamo far cazzo C'è il senso A meno abbiamo più uno spazio Sia la macchina Che Nello zaino A meno Oh raga Non slot in più Sembra uno slot in più Però vabbè Facciamo una cosa Intanto ci vendiamo gli alcolici A questo No L'alcolici non l'abbiamo presi La benzina Quando me la vendi Undici No no Vabbè la benzina ci può servire però Io ti vendo un po' di ghisa Tanto Ce n'abbiamo E anche un po' di rame Sinceramente Eh ma così poco mi dai No vabbè A sciapere Venditi solo No vabbè Non ci vendiamo niente Scusami Vediamo un attimo Eh scusi Mi raccocci poco E ci faccio Allora Officina Ghisa Quattro Quindi ghisa possiamo mettere Diventa cinque Poi Rame Qua diventa quattro Acciaio arrugginito Non ci abbiamo un cazzo Qua di acciaio arrugginito Vero? Però ci può servire Acciaio Qua Poi Alluminio C'avevamo qualcosa di alluminio? No Benzina C'avevamo qualcosa Ma già ce l'abbiamo cinque Vabbè Andiamo a vedere dentro l'auto Se possiamo accoppiare qualcosa Di qualche materiale Ma abbiamo due slot in più però Allora qua L'alluminio ce l'avevamo qua Perfetto Quindi facciamo Alluminio Benzina Lo possiamo mettere qua Quindi Acciaio inossidabile Ce l'avevamo qua Ce lo andiamo a rimettere qua Però scusa Schegge d'argento Mettiamo qua A meno mi si libera uno slot Acciaio Ce l'ho anche qua Ma perché un acciaio solo? Rame Vabbè tutto cinque E allora ci andiamo a mettere Rame E rame signori E a me ci facciamo lo spazio E facciamo così Facciamo così Acciaio arrugginito Non c'ho niente qua Di acciaio arrugginito Peccato Vabbè E a meno ragazzi Abbiamo fatto un po' di spazio Tanto che si accala anche una certa Ma ci andiamo a raccogli Tutti i materiali che avevamo già Spaccato E niente Tanto la macchina abbiamo Abbiamo anche aggiornato Un po' lo spazio E quello è Poi ci andiamo a comprare Una nuova lama Una nuova lama Per la sega Se no non possiamo fare niente Perché dobbiamo continuare A tagliare là Anche che se il rame Ce ne abbiamo Tanto Però Visto che con il rame Si fanno tante Si fondono tante cose Non vorrei che poi Ci rimaniamo a corto Capito? Allora Prendiamo tutta sta roba Que, que, que Acciaio Eh un sacco di acciaio Ci ha dato però Acciaio 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 Benzina Boh dopo possiamo vedere Che cosa possiamo fare Con l'acciaio Allora raga Proviamo ad andare qua sotto Va Oh Qua ci sono più le casse Però Spacchiamo tutto Che ci sta? Niente È bellissimo Ma no Ma non mi devi salire sopra Ci sta niente Ah questo bisogna aprirla Che ci sta? Rame Rame Ghisa Ci sta ghisa Ghisa e rame Vabbè Eeeh Continuiamo a rompere Ci sta niente Armadietti bisogna sbloccare Questo ci da l'olio La mia miseria Ok Accendiamo una torcia E si vede niente Allora l'olio L'olio Acciaio Olio Olio Acciaio Oh l'olio Eh siamo pure pieni Porca miseria Vabbè Andiamo a rompere le casse Ok Ok questa Non possiamo rompere niente Col martello Eeeh Ok questo bisogna sbloccare Sblocchiamo questa Vediamo che ci sta qua dentro Poi raga Non è che possiamo prendere Esce quello da sbloccare Vediamo un attimo Ci sta? Olio Ci sta Alcol Ghisa Vabbè l'alcol Vabbè raga Siamo pieni Siamo piombi Come si dice Allora Vai sali sopra Allora Eeeh La nave L'abbiamo fatta tutta Mancava solo Alcune cose Ma purtroppo Non abbiamo un'attrezzatura Ecco Mancava queste due cose Eeeh Che mancava qua dentro poi E niente ragazzi Questo Diciamo che la nave La possiamo anche rimandare Purtroppo non possiamo Oddio questo però Acciaio arrugginito e rame Io me lo vorrei prendere però Facciamo una cosa raga Andiamo a svuotare Finché possiamo Torniamo qua Perché mi voglio prendere Almeno L'ultime due cose là Oh raga Acciaio e quello A meno non si buttano Scusatemi Ma vediamo se possiamo Fondere qualche altro Materiale Oppure Non lo so Ma il fatto che Non possiamo fare Un magazzino Non possiamo fare Perché non mi fa Costruire un magazzino Cioè non mi fa Tipo perché la casa Non ho un magazzino All'interno Cioè io questa cosa Dico Cioè tutte queste casse Non me le fa manco utilizzare Cioè non Perché non posso Metterci la roba Questa cosa Non capisco Abbiamo sto poco Magazzino qua Ma Allora Andiamo un po' Piombo No piombo C'abbiamo qua Abbiamo due Quindi Se metto piombo qua Mi si libera uno spazio Però ci abbiamo Ghisa qua Ah facciamo così Facciamo cinque Ok mi si libera Almeno due spazi Acciaio Acciaio Tutto acciaio Abbiamo qua Forse in macchina Aspetta Abbiamo un acciaio Di uno Quindi possiamo Cioè liberarci Anche uno slot Va bene Acciaio Sì ci mettiamo questo E diventa tre Perfetto Dai Ci siamo liberati Un po' di roba Benzina Possiamo metterla qua E L'olio L'olio Teniamoci ragazzi Perché non vorrei Che Vediamo un po' Perché io Voglio comprare Dove cazzo sta La baracca Dove sta Io voglio comprare Questa per Per fare la cosa Poi Quindi ci serve Rame ce l'abbiamo Ghisa 6 Ma ci serve Altri Due o tre Fusti Di benzina Quindi La ghisa ce l'abbiamo Buono ce l'abbiamo in mano Però ce l'abbiamo Vedi che il rame Già ce lo conta Quindi Va bene Io lo facciamo così Ci dormirei su Sonno Qui c'è a meno Si mette anche il giorno Ok Andiamo Torniamo là Tanto Mo' la nave La possiamo rimandare Ci andiamo a prendere Quegli ultimi pezzi Che ci servono Poi Raga Abbiamo fatto tanto Abbiamo fatto upgrade Al negozio Così abbiamo più disponibili I nuovi materiali Poi dobbiamo comprarci La lama della sega Non dobbiamo Dimenticarlo E ragazzi Poi questo La possiamo mandare via Possiamo mandarla via Finiamo di depredare L'ultimi Ultimi cose Proprio che possiamo prendere Ma come si L'ultime cose Possiamo prendere Ehm No Metti il martello Allora Dobbiamo andare qui sopra Questa qua Vai Eh Tosto Tosto la roba Ghie Vabbè raga Di rame alluminio Ce n'abbiamo abbastanza Di rame Alluminio Acciaio Piombo Proprio Vediamo se ce la fa prendere qua Acciaio arrugginito Mi sa che già c'è Mi sa che ora ce la fa mettere Acciaio arrugginito Può vedere che questo Non me la fa prendere Ma ragazzi abbiamo depredato Il più possibile Quello che potevamo fare Noi con i nostri attrezzi Ovviamente Quindi Ehm Vabbè la nave la possiamo Rimandare via Le mandiamo via la nave Ehm Poi andiamo a accettare Un nuovo ordine Di commessa Vediamo che ordine è Almeno Se dobbiamo fondere Qualche materiale Per venderlo Ehm Meglio Vediamo quanti soldi Ci dà pure Almeno E raga Perché molla Per fare Quello dei Per i dipendenti Quello il prossimo episodio Andiamo a fare Quello dei dipendenti Ehm Così almeno possiamo Assumere un Di un nostro dipendente Ehm Andiamo a vedere pure un po' Cosa Cosa dobbiamo fare Insomma Allora La nave si può annullare Ci costa 238 dollari al giorno Ok Così a meno Non dobbiamo pagare Non Non dobbiamo pagare nessuno Andiamo a vedere Questa nuova Questa nuova Ordine Questa nuova commessa In questo villaggio Molto bello Molto bello Signore Molto bello Salve Cos'è serve a lei Allora Seleziona commesse Non accetti nessuno In ordine Appariranno ogni giorno Allora Questo vuole 8 di acciaio Ci da 50% Di livello E ci da 432 dollari Invece 9 di ghisa Ci da 176 dollari Io a sto punto Andrei a accettare L'acciaio A parte che Già abbiamo E già lo potrei pure fare Però Però per il momento No ragazzi Perché l'acciaio Ci può servire Però Abbiamo accettato Questa nuova commessa A meno è un obiettivo In più da fare Quindi Facciamo una cosa Allora Qua che ci serve Allora per costruire Questa baracchella Allora 6 di ghisa Ce l'abbiamo Il rame ce l'abbiamo E 4 di carosene Non ce l'abbiamo Quindi Ci serve la benzina Abbiamo solo 3 di benzina Olio ce l'abbiamo Olio ce l'abbiamo Un bel po' Vediamo un po' Ragazzi Fa vedere se mi fa La benzina È una cosa che Voglio all'ultimo vedere No Qua Allora Olio Più olio Ci fa il carosene Avete capito? Ecco perché Non volevo buttare l'olio E allora Lo possiamo fare A quando bisogna Mettere la La fornace Però per fare questa Tanto l'olio 1 e 1 Ci fa 1 di carosene Quindi ce lo mettiamo qua Allora Olio A 500 Più olio Vabbè 500 Già ci sta Vai Tac E abbiamo 2 di carosene L'olio ce lo riprendiamo Quindi 3 di olio Perfetto ragazzi Abbiamo fatto anche l'olio E anche la benzina Quindi Quanta benzina Abbiamo? 2 Ah no Il carosene Però No Non è benzina E allora la benzina Ce la possiamo vendere Aspetta Aspetta Io chiedevo che era la benzina Aspettate allora Fermi Fermi tutti Fermi tutti Allora Io c'ho l'olio C'ho uno qua E mettilo un po' qua Cioè che fa? Non mi fa mettere qua? Vediamo un po' 500 Vai Troppi Pochi materiali Ma scusami un attimo Olio Ah questo è benzina Giustamente Ma perché non mi fai mettere uno qua? Ma guarda che stupido Ce l'ho un po' D'olio qua No c'ho benzina qua Ragazzi la benzina Mo' ci andiamo a vendere Ve lo dico Allora Andiamoci a vendere la benzina Non so se ci serve Però O Male che va La Andiamo a comprare Allora la benzina E benzina Quando me ne vendi? Dai 344 che ci serve i soldi Eh ma Scusi Invece quanto costa Un po' D'olio Sì lo vorrei Acquistare Ah non me lo fai Mi fai se lo vendere qua Ma come se lo vendere? Ma guarda che sfiga Non ci abbiamo Abbastanza olio Ma dentro la macchina Ce l'abbiamo l'olio? Sono questo dubbio Rosene Prodotti chimici No non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo E allora Non lo possiamo fare Di conseguenza Perché Ah perché non me lo fai suddividere? Scusami Ah Shift L B Shift Ah no L Allora L Shift A Vaffan Q plus Si può dividere Signori Eh scusami Chi è che ha detto Che non si poteva fare? Eh Allora Meno 4 Ce ne abbiamo Adesso No? Fammi vedere Ma che forza abbiamo Spostiamo le auto noi? Carosene 1 3 Ce ne serve A me non altre 1 Ma non abbiamo più Non abbiamo più Alluminio Non abbiamo più Eh Alluminio Ce ne abbiamo Rame Il rame ce ne abbiamo Un bel po' Acciaio arrugginito Acciaio Acciaio Va bene ragazzi Quindi La Io direi Allora Vedi abbiamo 800 Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Manca Uno di carosene E la Ghisa ce l'abbiamo Quindi io direi Che per il prossimo episodio Ci andiamo A riprendere La stessa nave Perché Ha Quello che ci serve a noi L'olio Quindi vuol dire che La riprendiamo Ci andiamo a prendere Solamente l'olio E facciamo questo fatto Della baracca Però Adesso Io dobbiamo venire qua Perché noi ci dobbiamo Comprare La lama Dobbiamo comprarci La lama Eh Della sega Perché La sega Si era rotta Ok la lama L'abbiamo L'abbiamo cambiata Va bene ragazzi Noi ci possiamo salutare Qui quindi Facciamo così Facciamo Salvatina E torniamo Al nostro Ovviamente sempre Menu Di partenza Ragazzi Grazie ancora Di essere con me Spero che questo video Vi sia piaciuto Abbiamo fatto anche tantissimo In questo episodio Di Ship Gravayard Simulator Eh Abbiamo fatto upgrade Del Del negozio Quindi Eh Possiamo prendere più materiali Eh Cioè più Più attrezzatura Abbiamo comprato anche un nuovo martello Di livello 2 Proprio di acciaio Che possiamo martellare Come se ci fosse un domani Abbiamo comprato una nuova lama Quindi Eh Tutto quanto Dobbiamo fare la baracca Almeno possiamo prenderci anche sotto di noi Qualche operaio Che ci dà una mano a martellare E a depredare le nave Più facilmente Anche per acquistare più Più costo Abbiamo preso anche un nuovo obiettivo Una nuova commessa Di vendere l'acciaio E saremo ben ricompensati Poi nei prossimi punti di abilità Nei prossimi cosi Andremo anche a prendere altro Grazie a tutti per i consigli Che mi state dando Sia su questo episodio Su questa serie Ma anche sulle altre Ragazzi Grazie per il supportazzo Continuate così Noi ci becchiamo Nei prossimi video O live Sempre su qui Su canale youtube O sul tubo viola Che ovviamente Troverete sotto in iscrizione Ragazzi Tutti i link Sono gratuiti Non vi costa nulla Fare clic e clic e clic Noi ci becchiamo Nei prossimi video E live Qui sul mio canale Un mega bacio Ciao a tutti ragazzi Grazie